Napoli comincia da Scampia e il Papa delle Periferie ha iniziato la sua visita pastorale proprio dai quartieri più poveri della città partenopea. In questi luoghi di frontiera, tristemente conosciuti per la logica della violenza che sembra sempre prevalere, risuonano ancora le parole di San Giovanni Paolo II «Non arrendetevi al male». E proprio dalla piazza dedicata a Papa Waitiwa, Francesco ha rinnovato l'invito alla speranza, accolto da migliaia di persone commosse, da uomini e donne che non si vogliono arrendere alla corruzione e all'ingiustizia. Circondato da bambini e giovani, parlando cuore a cuore, sollecitato da tre domande, Papa Francesco ha riconosciuto che la vita a Napoli spesso non è facile, ma ha anche ricordato che una delle risorse più preziose del suo popolo è la gioia. Le parole che il Pontefice ha rivolto alla popolazione hanno abbracciato il tema della disoccupazione, ribadendo che la mancanza di lavoro ruba la dignità, quello dei migranti che non sono umani di seconda classe ma persone come noi, migranti a nostra volta su questa terra. E' il tema della giustizia troppo spesso piegata dalla corruzione. A tutti Papa Bergoglio ha chiesto di non lasciare l'ultima parola al male che ruba la speranza e abbelena il futuro. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.